piccolo video per i miei fan vi faccio vedere le insalate come stanno procedendo non ci entro dentro perché ha piovuto infatti se vedete la terra è ancora bagnata comunque stanno veramente crescendo bene adesso aspettiamo che asciughi un po' due o tre giorni oggi tira vento e sole per cui due o tre giorni poi andiamo a togliere l'erbacee e inizia anche un po' di raccolta credo dalla prossima settimana veramente veramente belle guardate non ci do niente solo acqua prima abbiamo concimato con il concime organico durante l'inverno buttavo sempre tutto il mio letame di gallina ecco guardate che spettacolo le ho messe così attaccate perché intanto poi piano piano le andiamo a togliere riempiamo e lasciamo poi dei buchi aperti ecco qua con questo vi saluto ciao